ciao a tutti gli amici di drama view ben trovati eccomi qua di ritorno con un unboxing ed oggi andiamo ad unboxare x a sexy horror story un film veramente divertentissimo che ci riporta delle atmosfere care del cinema anni 70 americano ma comunque anche molto moderno e devo dire con una gran bella tematica non vi voglio spoilerare molto del film perché il film va visto ovviamente è anche un po sporcaccioso ma è un film veramente divertentissimo tra l'altro speriamo che midnight factory porti anche gli altri due il prossimo titolo pearl è stato già presentato a venezia quest'estate e deve uscire anche l'ultimo capitolo speriamo insomma che midnight factory ce li porti tutti ovviamente una volta aperto la steel e il cellophane trovate il cartoncino che andiamo ad eliminare e abbiamo qui la steelbook stupenda devo dire a figura intera questa è la parte posteriore ve l'avevo già mostrata ve la vado a mostrare anche a figura intera e all'interno troviamo sia il disco 4k che il disco blu ray inutile dirvi che il disco 4k è quello che si vede meglio ma comunque il disco blu ray si difende alla grandissima per quanto riguarda gli extra ne troviamo solo due e il più interessante è l'intervista alle tre protagoniste femminili principali che dura sette minuti e poi abbiamo anche un piccolo booklet con ovviamente un piccolo saggio sul film e immagini come sempre redatto dalla redazione di nocturno nulla di più nulla di meno non manca il fogliettazzo della midnight factory che ci ricorda quali sono i punti salienti della linea midnight factory e poi per finire c'è anche un bel artwork interno anche se molto scuro forse non riuscite proprio a vederlo qui c'è la vecchietta protagonista anche lei del film con un bel forcone in realtà poi non è proprio una vecchietta ma non vi voglio spoilerare nulla neanche sul cast insomma un film veramente da scoprire ragazzoli questo film è disponibile un po' ovunque io vi lascio il link in descrizione di amazon e quello al fan factory shop come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per stare sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi unboxing e noi ci vediamo molto presto ciao ciao a tutti